L'oledì 22 di maggio, buongiorno come ogni giorno dagli studi di Dentro la Notizia, buon inizio di settimana a tutti voi. Iniziamo guardando i giornali, vedendo quali sono le notizie di questo inizio di settimana. Obama che va a spasso per le colline senesi, oggi potrebbe essere a Siena e a Firenze, soprattutto dove è atteso da un incontro con Matteo Renzi, ma si tratta di rumors, di indiscrizioni, non più di altro e quindi staremo a vedere, seguiremo e poi domani prontamente documenteremo con giornali alla mano. Intanto i giornali di oggi sul sedese ovviamente parlano di grande occasione, uno spot per determinate zone meno probabilmente frequentate, ma noi parleremo di questo, ma parleremo di molto altro perché nel frattempo se Obama è l'ex presidente degli Stati Uniti, e il neo presidente degli Stati Uniti, ormai non più neo, ci siamo abituati, Donald Trump, fa un'alleanza araba contro il terrorismo indicando nell'Iran il suo nemico. Parleremo a lungo di economia perché ovviamente lo studio di quest'oggi è orientato in competenza a parlare di quello e parleremo quindi anche di banche. Tutto questo all'interno del nostro spazio del mattino, molto interessante stamani, uno studio che vado a presentarvi, a cominciare dal professor Felice Dettore, docente di diritto privato della Facoltà di Economia, Università di Firenze. Ben trovato professore. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie per essere con noi. Buongiorno anche al professor Alessandro Petretto, docente di Economia, Università di Firenze. Buongiorno professore. Buongiorno. Terzo ospite che vi presenterò tra pochissimo in fase di microfono in questo momento. Come di consueto nella nostra segna stampa parleremo sul finale anche di calcio come da tradizione. Mancano due giornate, una l'abbiamo messa alle spalle quindi manca una giornata alla fine del campionato con la Fiorentina che insomma dice addio all'Europa e l'Empoli che cerca ancora la salvezza. Iniziamo dai giornali. La Nazione, il QN, combatto la morte sul web. Il titolo è dedicato alla balena blu, questo blue whale che sta imperversando nelle cronache da diversi giorni. Decine di casi di giovani che seguono queste regole folli e che addirittura pare portino al suicidio. Elvira D'Amato è la persona che vedete in foto in prima pagina, vicequestore, membro del pool d'indagine sul delirante gioco che istiga al suicidio. Una quarantina, le segnalazioni già arrivate. Il fondatore di Twitter denuncia, credevo in internet ma è finita, ora regnano falsità ed estremismi. Ecco qui Donald Trump che rassicura i leader arabi nessuna guerra all'Islam, tutti uniti contro il terrorismo, per il presidente USA il nemico è l'Iran. Per la politica di casa nostra invece c'è, pare, una prova di accordo sulla legge elettorale per il sistema tedesco proporzionale e voto ad ottobre, prove d'intesa tra Berlusconi e PD. L'inchiesta giovani in fuga dai sindacati difendo solo i diritti acquisiti, difendono solo i diritti acquisiti i sindacati. Questa è la denuncia appunto in questa inchiesta. Nel taglio basso poi una storia che ha del paradossale e che ci fa capire come nel settore della ricerca che neanche l'Italia, non solo l'Italia, sia scoperta. Guardate, questa è una storia di una biologa piombinese Bertacchini di cui tanto si è parlato nei giorni scorsi per la sua scoperta. Fa la scoperta del secolo ma ora è senza lavoro. Si chiama Federica Bertacchini, ha 49 anni, è di piombino, è una super ricercatrice, una vera eccellenza. Si ha scoperto il bruco che mangia la plastica ma il finanziamento spagnolo è finito perché lei era all'Università di Santander nel nord della Spagna ed è disoccupata. L'Italia ancora non le ha affatto offerte. Il taglio alto, il calcio, Bernardeschi scuote il mercato sul fronte in Fiorentina e invece per la cronaca di Firenze scontro in campo, grave un portiere di 17 anni. Andiamo a vedere il Tirreno, il quotidiano di Livorno, verso un accordo tra PD e Forza Italia per il voto in autunno, legge elettorale, apre con la politica. Accanto invece una nuova protesta, Maxi, buon'uscita a Mauro Moretti, Viareggio protesta, condannato per la strage. Mi chiedete se è troppo, 9 milioni di buon'uscita per Mauro Moretti? Bene, io dico sì, dice il sottosegretario Pierpaolo Baretta. Autonomi, addio agli studi di settore, il nuovo fisco e tempo di pensione sugli studi di settore. Dopo quasi 20 anni lo strumento per stimare i ricavi di imprese e professionisti è destinato ad andare in soffitta. Zero crescita, ma non è colpa dell'euro, dice Alessandro Volpi. Nel panorama europeo emergono due dati importanti e inattesi sul piano politico. Le recenti consultazioni elettorali hanno visto il tema dell'adesione convinta all'Europa assumere un ruolo centrale nel dibattito pubblico, capace di superare le tradizionali distinzioni tra destra e sinistra, persino tra progressisti e conservatori, schierarsi a sostegno dei valori europei e a difesa della moneta unica e della BCE è stata una chiave vincente. Vi faccio vedere la cronaca di Prato e Pistoia, andando sulla Porrettana dove c'è stato uno scontro tra moto e ci sono tre feriti. Ennesimo incidente sulla Porrettana, grave un agente. Per quanto riguarda la cronaca di Prato, invece, piano trasporti, tutto passerà dalla stazione. Padre Matteo insegna la felicità low cost e la storia di questa comunità dei ricostruttori con la R maiuscola che vuole recuperare un villaggio abbandonato in Val di Visenzio e promuovere ritiri spirituali e digiuni. Il prossimo inizio, il 28 maggio, ecco la loro storia. Andiamo a vedere adesso Repubblica Firenze, il dorso di Repubblica sulla Toscana, minori senza tutela, rimborsi più alti per chi li accoglie, aumentano le domande, il comune corre ai ripari e pensa di coinvolgere anche i ragazzi stranieri. Se il barattolino fa pulire le spiagge, la San Montana, l'azienda empolese, nota ovviamente per produrre dei gelati, adesso si distingue per questa chiave ecologica. Pam, terzo supermercato, tocca a Piazza Ottaviani, richiesta precedente ai divieti in centro. Questo è sul fronte commercio. Viola, non c'è posto in Europa e ora il tormentore Bernardeschi. Eccolo qui, il gioiello di Carraro, come soprannominato. Andiamo a vedere il Corriere Imprese, uno dei due formati con cui esce il Corriere Fiorentino, quello economico del lunedì. Affari immobiliari, il mercato toscano degli immobili di lusso continua la sua discesa, ma l'impennata dei prezzi è in arrivo. Gli americani continuano a fare shopping, i cinesi conquistano terreno. Questa è una delle chiavi di lettura dell'inizio della signora stampa. Cosa si può comprare con un milione di euro, si domanda questo titolo. Le indicazioni degli esperti internazionali da Forte De Marmi alla Val d'Orcia. Sono un po' le due zone, quella della Versilia e in particolare di Forte De Marmi, quella della Val d'Orcia, quelle più gettonate, più care ovviamente. C'è poi il professor Petretto che scrive il suo editoriale di Samani, una spinta privata, tra parentesi, a crescere. Servizi e ideologie, dopo lo leggeremo meglio, viene citato il cosiddetto Lib Lab. Davide Allegranti invece firma il suo sguardi, la trappola dell'incertezza, parlando di Giuliano Daempoli, che ricorderete è stato consulente di Matteo Renzi, assessore a Palazzo Vecchio, nel suo nuovo libro La rabbia e l'algoritmo, il grillismo preso sul serio, edito da Marsilio, che i leader populisti, dice ovviamente Giuliano Daempoli, che i leader populisti sono dei pagliacci, ma gli elettori vanno rispettati perché esprimono un disagio che finora l'elite non hanno saputo risolvere. Questo è l'inizio dell'editoriale Allegranti del lunedì. Andiamo a vedere lo sport con il Corriere Fiorentino, adesso tocca a loro, sono Corvino e Cognegni, in foto il Milan batte il Bologna, niente sesto posto, inizia la ricostruzione, a breve l'annuncio di Pioli, che sarà il futuro tecnico dopo Sousa. Corvino e Cognegni non hanno più alibi, via l'operazione rilancio, ma il tempo stringe già e c'è da convincere Bernardeschi a restare. L'editoriale di Sandro Picchi ha commento, come ogni lunedì, nel suo appunto il momento delle certezze. Andiamo a vedere poi due notizie. La metaforfosi di Paolo Sousa è il tecnico con le frecciate, Ernesto Poesio parla del tecnico uscente, quello portoghese, e invece una buona notizia, diciamo, è il rugby di Firenze, che torna tra i grandi, i medicei battono l'Aquila e giocheranno nella massima serie dopo 34 anni. Un sogno è la replica. Chiudiamo con la Nazione Firenze, eccola qui, la cronaca fiorentina della Nazione, Cogli l'attimo con una mela in primo piano, in città chiude una bottega al giorno, ma c'è chi continua a scommettere sul commercio. La storia di Giulia, che ha lasciato la carriera da commercialista per fare l'ortolana come il babbo. Due notizie di cronaca, Piromani all'isolotto, tre roghi in una notte, incendiati i cassonetti del Rione, indaga la polizia, e poi c'è il viaggio al sodo, quartiere paesone, ma ci stiamo spopolando. L'incidente che ha a che fare con il calcio, ma che purtroppo è più una notizia di cronaca nera, purtroppo aggiungiamo e sottolineiamo scontro in campo ferito calciatore di 17 anni e grave sospesa la partita. Dunque, questi i nostri titoli. Do il buongiorno, come detto, al nostro terzo ospite, Francesco Macri, il presidente di Estra. Bentrovato, presidente. Buongiorno, buongiorno a voi. Bentrovato. Allora, vi faccio subito vedere se la regia ce l'ha pronta. Le immagini di Barack Obama, che ieri ha fatto questa uscita sorprendendo un po' tutti, l'ha pizzicato tra gli altri, il collega di Repubblica Andrea Lattanzi. Questo ovviamente è Barack Obama che gioca a golf, di cui dopo parleremo. Avevamo una macchia all'inizio del nostro notiziario che faceva vedere un Barack Obama che andava per le strade bianche. Questo si può sommare, ovviamente, a un Barack Obama che gioca a golf e probabilmente ha un effetto moltiplicatore della Toscana, dell'immagine della Toscana nel mondo. È la prima cosa che mi viene da pensare. E infatti sulla nazione di Siena, di stamani, il sindaco di Buonconvento, che questo paese che ospita Borgo Finocchieto, la tenuta dell'ex ambasciatore John Phillips, dove Obama è ospite insieme a Michelle, dicevamo, la nazione di Siena mette nel taglio alto le parole del sindaco che dice, eccolo qua, la visita di Obama, spot mondiale per il territorio. Io chiedo ai nostri ospiti se la Toscana ne aveva di bisogno. Professor Petretto? No, secondo lei no. Tutto superfluo o tutto? No, superfluo. È comunque interessante, rilevante, che è un personaggio come Obama che è destinato poi nel tempo più che altro a emergere per questo suo modo di contattare il mondo, di visitare i territori. Quindi è un personaggio certamente molto amato. Ma quelle zone della Toscana sono talmente belle e talmente consolidate nel loro valore che insomma uno spot in più non fa male ma non aggiunge molto. Ecco, secondo me chi conosce la Toscana sa che siamo di fronte a zone meravigliose, ben tenute, quindi ok, si vede un po' più in giro ma insomma non ce n'era così. Cioè, tutto fa brodo però tutto fa brodo, certo. Non è che è la svolta. Non è una zona depressa per la quale appunto c'era bisogno di qualcosa di più. Lo so dettere? Mi piace contraddire il professor Petretto ma penso invece che sia uno spot importante perché non riguarda solo quella zona ma interamente l'Italia e la Toscana perché è chiaro che la presenza di più personaggi di questo comunque stato un ex presidente degli Stati Uniti porta a una conoscenza che già c'è sicuramente ma non c'è dubbio che è utile perché comunque vengono in Italia e vengono in Toscana e questo è molto molto utile perché certo ma al di là dei circuiti importanti turistici è proprio l'immagine complessiva che viene veicolata in modo positivo e credo che se c'è questa scelta da parte di personaggi di questo tipo sicuramente al di là dell'apprezzamento o meno sulla presidenza Obama non è quello che conta ma conta il fatto che sia presente sul territorio allora intanto come vedete dal Corriere Fiorentino si dice che gli americani comprano tra poco vedremo una scheda in cui ci fa vedere che effetti di economia rappresentano gli americani che vivono o che frequentano la nostra regione gli immobili di lusso è un affare secondo il Corriere Fiorentino nelle pagine delle imprese di stamane in Toscana i prezzi sono al minimo comunque Forte dei Mar Michianti Val d'Orcia è un mercato ancora ambito dagli investitori internazionali ma mai così accessibile però bisogna fare in fretta dopo dieci anni giù per gli esperti è vicina l'impennata delle quotazioni e cinesi e americani comprano quindi diciamo rimangono gli americani ma si affacciano ora anche i cinesi quello che è successo un po' a Borgo Finocchieto dove questo paese è praticamente minuscolo abbandonato alla periferia diciamo dell'impero senese o comunque sia di buon convento sicuramente in questo comune della Val d'Arbia che è stato comprato dall'ex ambasciatore degli Stati Uniti John Phillips e che è stato reso un vero e proprio gioiello dove adesso vanno nel loro buon retiro passatemi il termine ricchi cittadini americani e non solo che cosa ne pensa Presidente Macri? io penso che a questo paese servirebbe un piano industriale dal punto di vista turistico noi si dice sempre potremmo vivere di turismo ma manca un'industria turistica quindi queste iniziative sono assolutamente benefiche purtroppo le compie uno straniero un ex ambasciatore che viene qua a investire noi come sistema paese stiamo facendo poco e nulla sul piano turistico noi in Italia e segnatamente in Toscana potremmo avere un PIL notevolissimo dal punto di vista turistico invece subiamo i flussi turistici quelli più commerciali affolliamo Firenze affolliamo Siena San Gimignano i luoghi deputati quelli più vocati al turismo commerciale c'è tutta invece una Toscana minore anche la Toscana meridionale che è fuori dai circuiti commerciali dalle grandi direttrici che portano al De Mol che è attrattivo di più che le torri del Mangia in alcuni momenti serve che la pubblica amministrazione assolutamente sia sviluppato notevolmente il turismo proprio commerciale nel senso pure del termine manca da parte dell'amministrazione in generale e dello Stato un intervento strutturale sul piano turistico che coinvolga il meridione d'Italia e tutto il paese in generale però insomma il turismo negli anni è assolutamente calato e se pensiamo che al nostro patrimonio culturale e alle nostre capacità potremmo fare molto di più il turismo può essere declinato con tanti aggettivi c'è quello ambientale quello congressuale quello culturale quello commerciale anche però ecco non c'è una consapevolezza a livello generale si pensa magari a reindustrializzare alcune aree non si pensa a creare un'industria turistica proprio in maniera strutturale però diciamo ne abbiamo di bisogno di rafforzare il cosiddetto terzo settore professor Petretto sì nel senso che il terzo settore che prevede diciamo il coinvolgimento nelle attività economiche dove sostanzialmente prevale il settore pubblico in attività di assistenza di welfare in generale è un po' il tema del mio editoriale che ho fatto che è uscito stamattina cioè il nostro paese è un paese nel quale si è posto come obbligatorio in un certo senso solo avere il ruolo del settore pubblico in tutta una serie di settori ad alta domanda che sono i settori relativi all'assistenza sociale all'intervento sulle classi disagiate la stessa sanità e tantissimi tantissimi settori e quindi c'è una grande tradizione in particolare in Toscana il collegamento col mondo cattolico col mondo del no profit che è sottovalutato che secondo me ha una potenzialità di offerta notevole rivolgendosi a un settore ad alta domanda è anche in grado di fare investimenti e creare occupazione che cos'è il Lib Lab che lei dice Lib Lab è diciamo questo mio intervento fa seguito a un intervento di Dario Di Vico sul Corriere Nazionale nel sabato scorso nel quale dice che la vittoria di Macron riporta diciamo in vita una logica di intervento pubblico dell'economia che è quella che è così indicata come Lib Lab o Terza Via che sarebbe il laborismo libero sono questioni nominalistiche quindi non è questo il punto è che in mezzo diciamo così tra il capitalismo finanziario puro e duro alla Grispan che ha generato la crisi economica del 2007 ad alcune visioni illusionistiche della fine del capitalismo e quindi della ricostruzione di chissà cosa di alternativo esiste esiste nel mezzo una diciamo un'area di 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 ragionamenti che ha avuto che ha avuto con Macron un esplicito riconoscimento elettorale è certo che il problema per noi è molto difficile perché lo strumento principale di questa di questa terza via è la spesa pubblica e la spesa pubblica nel nostro paese non è stata gestita in modo molto oculato per cui ecco che il terzo settore secondo me diventa un'alternativa rilevante sulla quale sulla quale investire senza senza porsi problemi di ideologia di steccati di di blocchi che non saremo più un paese diciamo tra i più industrializzati del mondo a quel punto no oppure possiamo continuare come no questi sono settori ad altissima tecnologia e l'idea che come dire per fare turismo abbiamo bisogno delle industrie che producono per le aziende turistiche sia la componente turistica che la componente quindi tutta la terziarizzazione della nostra economia è difficile definirla terziario tradizionale ci sono molti elementi di alta tecnologia per cui la distinzione tra terziario e manufatto e industria è sempre meno evidente e quindi laddove l'offerta si forma e quindi il terzo settore non vedo i motivi perché dovrebbe essere soffocata perché appunto essendo privata può come dire non non suscitare diciamo l'approvazione di alcuni pensieri antichi come dice il professor Petretto sicuramente questa è la prospettiva bisogna guardare al terzo settore in maniera positiva e non con pregiudizi ideologici questo è il tema di fondo ma il tema principale in questo momento in Italia in Toscana anche in particolare sono le condizioni per svolgere l'iniziativa economica privata questo è il punto l'impresa privata l'iniziativa economica privata deve essere il fulcro dell'azione anche della mano pubblica nel consentire questa è poi l'idea di fondo di Macron e quindi per consentire questo rilancio dell'economia per la crescita si parla sempre di crescita della ricchezza ma l'impresa privata deve avere uno spazio un ambiente favorevole un ambiente e delle condizioni in cui poter svolgere questa attività ci sono i soliti temi della pressione fiscale ma non solo degli orpelli perché li chiamo così burocratici perché sono orpelli burocratici che fermano totalmente l'iniziativa privata quindi bisogna cambiare prospettiva pensiamo anche al fatto che molte regioni in Italia non riescono a mettere sul territorio finanziamenti e fondi comunitari che esistono e molte regioni non li utilizzano e poi ci si lamenta se l'Europa non bisogna anche cogliere le occasioni cioè bisogna ricostruire un sistema come diceva prima Macri che è un sistema che per esempio nel turismo crei non solo le condizioni ma sia elemento e volano di sviluppo per fare questo bisogna cambiare mentalità e superare alcuni pregiudizi superare anche certi modelli sui quali la stessa regione toscana si muove che non danno spazio vero all'iniziativa economica privata e questo sull'intero territorio ma anche in Toscana se si ha come obiettivo la crescita il primo elemento sul quale in questo momento bisogna lavorare è quello di aprire all'iniziativa economica privata dando non solo le condizioni ma dando anche gli elementi di sviluppo dell'impresa nel tempo e noi in questo momento tra i problemi che abbiamo sul credito all'impresa tra i problemi che abbiamo sugli orpelli burocratici tra la pressione fiscale ma iniziare un'attività economica nel campo turistico ci sono idee il problema è che queste idee che hanno i privati non trovano allo stesso modo nella mano pubblica una componente che è quella di favorire perché non è che si chieda alla componente pubblica di avere pure le idee perché mi sembra che non ne abbiano granché in questo momento ma almeno di consentire ai privati di poter realizzare le idee perché poi l'impresa si fonda su questo si fonda su questa capacità anche di innovare di pensare di trovare modelli nuovi su cui poter lavorare però bisogna dare quell'ambiente come diceva il professor Petretto che parte anche da un cambio culturale molto utiliti come Estra è un modello nuovo in tal senso come dice il professor Dettore? sicuramente è un modello nuovo ma il tema sarebbe ancora più ampio associare un'opzione di sviluppo maggiore in questa regione o nel nostro paese anche a una razionalizzazione riorganizzazione del pil pubblico di natura pubblica oggi il grosso delle risorse non sono più nelle amministrazioni comunali ma sono dislocate gestite nelle grandi strutture parapubbliche o semi privatizzate che gestiscono il tema dei servizi pubblici diretti e anche di quelli parapubblici o comunque di pubblico interesse come il caso del gas e degli altri servizi che magari offre eroga un'azienda come Estra e sarebbe un grande tema visto quello che accade c'è il tema dell'acqua il tema dei rifiuti del gas e potremmo ripensare complessivamente un sistema un pochino più efficiente un po' più toscano capace di trattenere qui il pubblico e di offrire ancora opportunità di lavoro in maniera importante ma diversamente rispetto al vecchio modello di occupare persone per interesse pubblico politico ecco reimmaginarlo nel segno dell'efficienza per i cittadini senza far schizzare tariffe e bollette ma anche come opportunità di lavoro perché oggi il tema delle utilità pubbliche è un tema rilevante anche come opportunità sia sul piano imprenditoriale industriale che su quello occupazionale Estra credo che sia un modello nel panorama toscano anche quest'anno ha chiuso il bilancio 2016 passando da 832 milioni dell'anno scorso a 1 miliardo e 44 abbiamo fatto 15 milioni e 100 di utile netto 86 milioni di margine operativo lordo occupiamo 700 dipendenti abbiamo conquistato di fatto le marche siamo anche il primo operatore nelle marche una grande fetta del centro Italia ormai è da pannaggio commerciale e anche diciamo per quanto riguarda la gestione reti di Estra è una multi utility vera e propria che si sta diffondendo non solo in senso verticale ma anche in senso orizzontale quindi è un gran risultato che portiamo a casa per tutti i toscani e nel futuro prevediamo un'ulteriore crescita c'è anche il tema della quotazione e anche della diversificazione degli investimenti però poi quando andiamo a vedere la bolletta di solito insomma se un cittadino va bene bene a spulciare vede che la quota di energia che ha pagato è relativa rispetto alle tasse che poi uno paga nel gas funziona più o meno come nella benzina la parte della materia prima è un terzo circa a volte anche meno in più consideri che noi siamo un paese per scelte precise dal punto di vista politico siamo un paese che è dal punto di vista energetico dipendente dall'estero non abbiamo risorse nostre per più motivi soprattutto insomma per la carenza anche naturale nel caso del gas di natura fossile e quindi a noi l'energia costa ma comunque è la parte diciamo meno rilevante della bolletta il resto sono accise di tipo nazionale e regionale che variano anche da regione a regione e poi c'è comunque la quota di libero mercato che può variare ulteriormente però questo è la materia prima fino a un certo punto incide e la compagnia energetica può fare fino a un certo punto consideriamo che ancora il 70% rientra nel mercato a maggior tutela così si definisce perché c'è il libro mercato però c'è una certa rigidità in una grande rilevante fetta del mercato però quando parliamo di defiscalizzazione se dovessimo insomma andare ad incidere non solo nel settore ovviamente del gas e dei servizi alle famiglie e alle persone diciamo possiamo permetterci di abbassare le tasse il dibattito insomma si è allargato anche a questo in questo senso la penso in un modo molto molto specifico secondo me il problema non è tanto quello di abbassare nel suo complesso in assoluto la pressione fiscale che è abbastanza difficile in una situazione in cui abbiamo un livello del debito sul PIL ancora così elevato per me il problema è dove operare dei meccanismi di defiscalizzazione molto forti secondo me bisogna andare molto di più sul settore delle imprese di quanto non è stato fatto di quanto non è stato immaginato naturalmente defiscalizzare la componente di imposte che pagano le famiglie può in un certo senso dar luogo a un aumento dei consumi e quindi aiutare in questa fase recessiva ma non è nemmeno così scontato perché le famiglie adesso non reagiscono più in modo diretto quando hanno un aumento del reddito disponibile tramutano subito in consumo c'è da pagare i debiti che hanno sostenuto per effettuare consumi precedenti c'è tutta una letteratura che dice che la funzione del consumo non è più così istantanea mentre le imprese conoscono un livello di tassazione così elevato che impone delle scelte tecnologiche che non sono quelle efficienti cioè costringono le imprese ad avere un rendimento del capitale investito relativamente basso e quindi hanno delle difficoltà sia ad occupare forza lavoro che a innovare e investire quindi se una detassazione deve essere fatta e deve essere fatta secondo me va concentrata nel sistema delle imprese dove la sofferenza secondo me è più elevata poi sostanzialmente se la ripresa sarà più robusta naturalmente questo andrà a favorire anche le famiglie perché ci sarà una ridistribuzione del reddito un aumento dei salari e così via ma io mi concentrerei sul mondo delle imprese quindi abbiamo letto di Alessandro Volpi in prima pagina del terreno l'editoriale Polini Interno prosegue e il titolo dell'Italia non cresce e non è colpa dell'euro questo possiamo acclarare ci metta un punto sclamativo un timbro cioè noi abbiamo delle colpe che sono c'è un dato è uscito adesso da un'indagine dell'ufficio parlamentare del bilancio che dice che dal 1996 al 2007 quindi prima che questa crisi fosse scatenata c'erano dei paesi che hanno ridotto il debito sul PIL del 55 punti percentuali come l'Irlanda 44 punti percentuali come il Belgio e l'Italia solo 17 quindi quello è stato un periodo nel quale l'Italia non solo non ha avuto un aumento della produttività diciamo del lavoro ma non è stato fatto un intervento adeguato nemmeno nel controllo del debito pubblico l'euro ci ha aiutato perché in tutta quella fase i tassi di interesse sono stati relativamente bassi malgrado lo spread e la spesa per interessi non ci ha preso alla gola come ci avrebbe sicuramente preso in una situazione in cui ci vede in coda rispetto ai paesi principali europei nella riduzione del debito sul PIL quindi chissà che cosa non sarebbe successo se non ci fosse stato Mario Draghi io credo ah beh Mario Draghi è ancora qualcosa di più perché non è soltanto l'euro è un governatore della banca centrale europea che ha innovato profondamente la politica monetaria andando nella direzione nella creazione di liquidità che ha difeso diciamo l'euro i problemi vengono ora insomma neanche pochi questo è detto l'analisi può essere questa l'euro qualche colpa ce l'ha anche il sistema Europa e l'euro su cui poi su alcune decisioni che sono state prese in questi anni che hanno portato a una contrazione anche dei consumi nel nostro paese per una serie di ragioni ma il problema ora secondo me bisogna agire su tre direttrici mi permetto di dire il professor Petretto queste cose le conosce anche meglio di tutti noi ma le direttrici fondamentali in questo momento sono quelle reali uno le imprese non c'è dubbio dal punto di vista della defiscalizzazione e della semplificazione burocratica di cui si parla tanto a parole ma che poi non si realizza in nessun modo perché ogni regione costruisce un suo sistema il sistema nazionale si sovrappone a quello regionale poi c'è il sistema finora delle province e dei comuni che a loro volta inseriscono altri elementi di instabilità burocratica proprio di confusione quindi c'è prima questo aspetto sulle imprese l'altro da aggredire immediatamente è quello di sostenere in qualche modo fasce molto più ampie di povertà del paese molto più ampie che sono ormai evidenti e sulle quali bisogna non è di intervenire solo sulle famiglie oggi bisogna capire che sono fasce vastissime di popolazione che sono in una situazione di grande difficoltà che nemmeno accedono ai consumi che non sanno cosa siano i consumi che si trovano in una difficoltà ormai che sta diventando proprio strutturale terribile in alcune zone del paese e che sta succedendo anche in Toscana perché è inutile nasconderlo le fasce di povertà e così fasce di povertà che poi colpiscono anche il mondo giovanile il mondo del lavoro e bisogna intervenire su quello quindi le risorse terzo bisogna far dimagrire lo Stato in qualsiasi modo bisogna farlo dimagrire in qualsiasi modo non si riesce a far fronte al debito pubblico ma bisogna intanto far dimagrire lo Stato in maniera proprio forte non solo spending review immagino non solo spending review perché questa spending review ne parla tutti come sai i sindacati lamentano il blocco delle assunzioni nel settore pubblico e certo ma in alcuni settori pubblici per esempio se uno pensa all'università altro che blocco delle assunzioni sono anni che sono bloccati gli stipendi dal 2010 poi l'hanno sbloccato è l'unico settore che ha bloccato non perché siamo all'università le assunzioni all'università ma a difesa la categoria è l'unico settore che ha fatto questo si diventa sempre più vecchi all'università i giovani se ne vedono sempre meno perché ci sono meno assunzioni più difficoltà di reclutare di fare ricerca e anche la ricerca è fondamentale in qualsiasi paese voluto l'Italia si vuole porre c'è il G7 ma è l'ultimo di tutti i paesi che per la ricerca per i fondi che vanno alla ricerca cioè la ricerca e anche poi quello che io credo che sia fondamentale da ricordare è che questo paese è nella contrazione dei consumi nella difficoltà delle famiglie lì bisogna intervenire bisogna intervenire dando spazio come dicevo prima alle imprese cambiando mentalità le imprese devono essere viste come delle amiche come dei fattori importanti bisogna come dire se è un'iniziativa economica fallisce se è un'iniziativa economica viene meno nessuno se ne rende più conto non è più un problema chiudono i negozi chiudono le imprese è diventato normale è quasi un bollettino di guerra se in un mio territorio le imprese chiudono e vanno male chi amministra dovrebbe dire me ne vado a casa perché non sono in grado di fare niente questo è il tema allora bisogna anche cominciare a avere una responsabilità anche su questo bisogna anche essere pronti a far fronte alle crisi che ci sono sul territorio e quella fascia lo voglio puntualizzare di povertà sempre più ampia che c'è nel paese di persone che non solo non accedono ai consumi non sanno nemmeno non possono manca accedere hanno difficoltà pure ad accedere ai servizi lo sa sicuramente Macri di quante persone sono in difficoltà anche a pagarle le bollette a stare sui comuni che fanno il loro massimo per poter dare sostegno poi però i comuni vengono ridotti i fondi tutta la parte sociale di gestione che hanno i comuni anche di sostegno delle famiglie in povertà e chi lo fa più questo e questi sono temi sui quali bisogna è un fondo immagino per le fasce levole esiste forse bisogna anche che dallo Stato centrale e dalle regioni si capisca chiaramente che il dimagrimento del settore pubblico ora senza andare in tecnicismi vuol dire in qualche modo ridurre la situazione attuale anche dell'organizzazione dello Stato è inefficiente l'organizzazione dello Stato in alcuni settori o è pletorica e bisogna in qualche modo intervenire su questo se non interveniamo è inutile cominciare a parlare sempre tutte le volte poi chiunque fa spending review e chi la fa sta spending review c'è questa difficoltà diciamo della popolazione anche nel pagare le bollette le fasce le fasce diciamo che non si possono permettere neanche quello è aumentata in questi anni di crisi Presidente assolutamente c'è c'è anche uno strumento che purtroppo è poco conosciuto anzi approfitto della vostra trasmissione poco conosciuto e poco promosso anche dalle amministrazioni comunali che sono le principali responsabili in questo paese esiste il bonus energia che vale sia per la luce cioè l'energia elettrica sia per il gas potrebbe favorire almeno due milioni e mezzo di persone in questo paese viene utilizzato da 7-800 mila è veramente utilizzato pochissimo e si attiva velocemente attraverso anche un sito in genere lo viene promosso dall'amministrazione comunale è un vantaggio economico in aiuto alle persone e può arrivare a supportare anche cifre rilevanti almeno fino al 30% della bolletta in alcuni casi anche di più e molti non lo sanno molti non lo sanno in più i comuni intervengono anche direttamente in via sostitutiva poi i comuni con le politiche sociali intervengono anche via sostitutiva quindi spendiamo anche in questo perché poi maggiori spese del comune sono a carico del cittadino assessorato alle politiche sociali di Arezzo con Lucia Tanti riceve quotidianamente richieste per supportare pagamenti di canoni di affitti di bollette in una famiglia con bambini non è che puoi staccare qualcos'altro ma non il gas che dopo non puoi farti la doccia al bambino se non siamo in grado di far fronte a questo e se le risorse non vengono le salle allora perde anche di senso democratico l'attività pubblica e questo è un grande spreco perché non solo non pubblicizziamo questo strumento ma poi spendiamo anche per andare incontro a queste esigenze c'è una misura nazionale è un fondo costituito proprio sia dallo Stato che dalle compagnie va in tariffa addirittura le compagnie non ci rimettono una lira col bonus energia viene sostenuto dall'autority dell'energia immaginiamoci insomma che spreco non lo soffrire però bisogna ricordare in questo voglio dire mi collego a quanto ha detto il collega prima cioè non c'è secondo me in questo paese l'esatta percezione che laddove si produce la ricchezza sono le imprese questo è il punto secondo me è cruciale Naudi scrisse un bellissimo saggio nel suo predico inutile che si chiamava in lode del profitto nel senso che diceva se non si consente al mondo delle imprese di produrre ricchezza di creare occupazione di riprodurre le condizioni per lo sviluppo anche la lotta contro la povertà diventa una lotta estremamente difficile perché se tu vai a ripartire una torta che è ferma e che quindi non si espande ci sono dei problemi naturalmente anche di tipo come dire di contrasto sociale che si acuiscono ci vuole questo è un paese che ha ci vuole la crescita mi scusi questo anche per ragioni forse ideologiche ci siamo sempre concentrati nella condivisione della ricchezza ma nella fase finale cioè del reddito no? della condivisione fiscale e non la prodizione invece di condividere lo sviluppo dovremmo condividere più diciamo ma io credo che ci sia una fetta rilevante della popolazione la possibilità di far crescere l'economia rispetto che crede che la produzione di ricchezza la faccia lo Stato e questo è il punto per cui siccome lo Stato produce ricchezza io voglio sempre più Stato voglio sempre più in presenza dello Stato per distribuire la ricchezza e così via ma non è così se il mondo delle imprese non si adegua come dimensioni delle imprese come capacità di stare sul mercato nel creare aziende che pubblichi pubbliche o servizi come questa che ha le dimensioni industriali necessarie se non si muove in questa direzione non si produce la ricchezza e non si fa la lotta alla povertà in momenti di particolare crisi poi quando ci sono diciamo gli scollamenti di cui prima tra chi non può permettersi neanche i consumi e chi invece ha dei superstipendi ovviamente le notizie diventano eclatanti come quella di Moretti che però sappiamo avere una vicenda giudiziale dietro sul fronte di Viareggio questa è la notizia che arriva dal terreno Moretti in Siberia sui binari la rabbia per la buonuscita d'oro i familiari delle vittime del disastro contro il manager sei mesi per la sentenza 40 giorni per dargli 9 milioni e questo insomma è il grande non si danno e basta e poi faccia causa non gli si devono dare non fanno dati non è il momento per cui uno possa prendere una buonuscita di 9 milioni non gli si danno basta è possibile insomma visto che immagino sia tutto farà che gli pare non gli si danno ma non è meno a pensarci lontanamente non è il momento a far discutere ovviamente tutto questo non c'è solo la protesta legittima ovviamente dei familiari che hanno perso la vita dei propri cari in quella strage e poi la vicenda giudiziaria abbiamo detto è andata nel senso di cui prima ma anche il sottosegretario Barretta è sottosegretario delle finanze e dice eccessiva la liquidazione per l'ex AD di Leonardo Leonardo è fine meccanica eccessiva è poco e oltre che eccessiva è delittuosa ecco questo è il termine da dare delittuosa non è eccessiva non è nemmeno per anni è successo questo dovrebbe essere impedito come in qualsiasi modo non te li do lo Stato dice non siamo in grado e in qualche modo farai e se sei una persona e poi fa causa e ne prende ancora di più vediamo vediamo non ne è mica detto no non ne è mica detto c'è anche un criterio di equità di giustizia sostanziale che può essere valutato in queste voglio vedere come sono state calcolate il perché in base agli stipendi vediamo non ne è mica lo Stato deve anche reagire guardi sul fronte delle banche in crisi le banche queste sono le pagine economiche della nazione non i banchieri la classifica dei compensi dorati con 18 top manager milionari ci sono tutti all'undicesimo tra l'altro c'è UbiBank che come sappiamo sta discutendo anche ora di esuberi dopo aver acquisito tra le altre anche banche di origine pubblica servire il pubblico in una grande azienda pubblica è un privilegio ma deve prevalere il concetto di servizio non può prevalere il concetto di mercato la favola per la quale ma se non paghiamo in maniera elevata i manager nel pubblico poi non riusciamo se ne vanno nel privato dove questi sono manager tutti di origine pubblica e in questi manager dovrebbe prevalere come dire la mission di natura pubblica e sociale se prendi Estra gli stipendi di Estra sono molto bassi per i dirigenti e molto bassi per il board di Estra rispetto a se la confronti Estra con le altre aziende di pari dimensioni siamo ben al di sotto del 50% dei compensi e dovrebbe esserci un po' di decenza soprattutto in momenti come questo e al vertice c'è Federico Ghizzoni che in questi giorni abbiamo sentito di lui un gran parlare ai vertici di Unicredit eccolo qui in testa la classifica c'è proprio Unicredit segue Intesa San Paolo e via via tutte le altre come è detto Ghizzoni per la vicenda De Bortoli Boschi allora dobbiamo andare in pubblicità prima di vedere la vignetta di Alagon poi torneremo parleremo di call center poi andremo ovviamente come di consueto verso torneremo su Obama e andremo verso la pagina calcistica ma la vignetta è dedicata a questo tema le intercettazioni lo schiaffo del CSM fughe di notizie pilotate da IPM e la vicenda Consip la mettiamola la mettiamola in satira mettiamola con un sorriso con Alagon e poi dopo torniamo a fare la fine ti telefonerò ti offrirò una serata strana Lui chi è? Come mai l'hai portato con te, mentre lui? Lui chi è? Lui chi è? Lui cos'è? Lui com'è? È stato mai certo di troppo. Il triangolo no, non l'avevo considerato, la geometria non è un reato, garantisci per lui, per questo amore un particolato. Allora eccoci tornati, nelle settimane, nei mesi scorsi ricorderete la battaglia del quotidiano Il Tirreno per il cosiddetto telemarketing che poi ha avuto uno sfocio anche all'interno del Parlamento con il dibattito rispetto ad una legge che al quotidiano diretto da Luigi Vicinanza ovviamente non piaceva per la liberalizzazione di queste chiamate a tutte le ore per vendere qualsiasi cosa. E' passata la cronaca Estra negli scorsi giorni per aver detto un no, un taglio ai call center? Lo dico da circa otto mesi, ho portato avanti all'interno dell'azienda questo piano. Estra, come tutte le aziende, per stare al passo commerciale delle altre, ha fatto uso di grandi strutture italiane che lavorano all'estero e anche di strutture estere, soprattutto nell'outbound, cioè nel ingaggio commerciale, non nella gestione del cliente. Il rischio c'è sempre, quando si diventa molto grandi, di assomigliare, di prendere a modello le grandi aziende che fanno uso su vasta scala di questi strumenti commerciali. Poi c'è da sottolineare che in Italia in passato si è prodotto delle grandi concentrazioni che a noi non piacciono comunque, di queste strutture di call center che favoriscono una esasperata precarizzazione e massificazione del lavoro su quel lato. Noi abbiamo inteso attuare un nuovo modello di prossimità, un servizio di prossimità dal punto di vista commerciale. Abbiamo visto che è premiante, perché invece di far chiamare dall'estero un potenziale nuovo cliente, è più premiante se a chiamarlo è un aretino, se chiama uno della provincia di Arezzo, un senese si chiama Siena, un fiorentino si chiama Firenze. Ci dotiamo di piccoli centri di call center, di store, di soggetti che operano più vicini al territorio. E questo, devo dire, ci ha consentito un abbattimento verticale anche dei reclami. Sono scesi del 28% in un caso, in un altro del 22%. Si è ridotto notevolmente il tempo di attesa. Credo che la nostra forza sia il legame col territorio. Dobbiamo diventare un'azienda nazionale, ma dobbiamo restare territoriali. È questo che farà la differenza nel momento in cui il mercato diventerà sempre più combattivo. E questo anche perché, lo percepiamo tutti, sta diventando una sorta di stalking commerciale. Ognuno di noi riceve decine di telefonate alla settimana, con tentativi di approccio commerciale di varia natura. Sta diventando poco sopportabile, nauseante per certi versi. Quindi il tema è una grande azienda di origine pubblica deve assomigliare a questo tipo di modello, oppure ritornare con i piedi ben saldati per terra e riparlare la lingua del territorio. In più si gli dà una risposta occupazionale che si è veicolata all'estero. E non può andare così. C'è ragione, sono ovvie, sono i costi. È più faticoso, però abbiamo visto che è premiante dal punto di vista commerciale. Perché c'è stato un eccesso di aggressività. O si ripensa dal punto di vista legislativo le regole di ingaggio, come hanno fatto in Inghilterra. In Inghilterra devi chiedere il permesso anche per fare il porta a porta. Tu non puoi bussare la porta di un cittadino e fargli una proposta commerciale. In Italia siamo un po' così, poi si eccede, si approfitta magari della tolleranza normativa, però o si interviene a livello normativo e si dà una regolata, si frena questo eccesso di proposte commerciali e anche telefoniche, oppure si preme aziende che riconoscono un nuovo modello che è una sorta di ritorno al futuro. Ritornare un po' indietro e guardare con maggiore consapevolezza al futuro. È più faticoso questo modello, ma è premiante. Per extra i contatti telefonici o comunque la consultazione dei nostri clienti ci dicono che tra 0 e 10 danno un 8 alla credibilità dell'azienda, alla soddisfazione nei confronti dell'azienda. Quindi abbiamo verificato sul campo che dal 2016, avendo chiuso praticamente tutti i rapporti con le aziende stranieri di questo tipo, c'è stato un ritorno economico. Abbiamo tagliato tutti i corsetti stranieri, queste le notizie possono rimbalzare anche sui siti. Il problema è che il nostro paese non sa fare il regolatore e non sa fare il promotore della concorrenza, cioè non sa fare tutte e due le cose. Il tema è sempre quello. Questa legge sulla concorrenza è una legge che secondo me va difesa con le unghie, con i denti, dalle attacchi di tutte le lobby spossibili e immaginabili, che la vogliono ridimensionare, l'hanno spostata nel tempo e così via. L'unico settore sul quale francamente l'attacco è giustificato è quello che ha detto poco fa. Perché l'Inghilterra, che è il paese per eccellenza della libera concorrenza, hanno trovato il meccanismo per bloccare questo tipo di... La libertà del cittadino. La libertà del cittadino. Quindi lo spazio naturalmente deve essere oculato nello sviluppare e promuovere la concorrenza e regolarla laddove deve essere regolata. Questo è uno dei settori nei quali la regolazione deve essere fatta. E quindi in altri invece si sono fatti portare dal peso delle lobby e hanno eccessivamente regolato, quando invece andava più sviluppata la concorrenza. Purtroppo è questo. Lei dice che quindi si prende questo singolo caso per in qualche modo mettere l'ostacolo ad una... Non sa fare il regolatore e non sa promuovere la concorrenza. E questo è così. Che ne pensa, professor Detto? No, è che purtroppo questa è la situazione. La concorrenza è un principio fondamentale. Parlavamo di impresa, di promozione dell'impresa. La concorrenza, chiunque si pone contro il sistema della concorrenza, vuol dire che non è un sistema democratico. Perché non può essere, il nostro sistema anche economico in Europa, non può che essere fondato sul principio di concorrenza. Detto questo ci sono delle situazioni, soprattutto quando si tratta dell'offerta di servizi pubblici, come questa, e la gestione poi di servizi pubblici attraverso la mano, in parte la mano pubblica e il privato. Vabbè, ora Estra si cuoterà in borsa, ma comunque gestisce servizi rilevanti sul piano dell'interesse pubblico e quindi su quei settori bisogna intervenire e consentire, soprattutto con la massima trasparenza, la massima chiarezza, di avere conoscenza delle condizioni, ma anche di capire come si svolge il rapporto nel tempo. E svolgere il rapporto nel tempo non significa essere subissato di proposte da un giorno all'altro, telefonate, anche perché poi rispondo e parlate con il call center della Bulgaria. A me mi è capitato un ultimo modo della Bulgaria. E che volete da me? Io non volevo... Cioè io lì per lì non ho capito, che volete da me la Bulgaria? Mi ero anche impressionato. Poi ho capito che era una roba perché ero stato in un hotel e allora quelli mi richiamavano. Ma i privati, come dire, possono muoversi come meglio ritengono. Quando c'è l'interesse pubblico, i servizi pubblici essenziali come questi, probabilmente bisogna anche... E c'è la normativa in Italia. Il problema è che gli organi di controllo e le autorità di garanzia, dove vogliono stipendi in quelle autorità di garanzia, di gente che c'è, che fanno? Cioè quali controlli svolgono? Perché anche questo poi il tema. Non è che non ci siano le autorità garanti e non ci siano anche... E la normativa non sia... C'è una normativa europea che è stata applicata su quel settore in Italia e però poi, come al solito, voglio dire... Poi ci poniamo il problema se fa causa quello Moretti per pigliarsi 9 milioni di euro. Però, voglio dire, una tutela diffusa degli utenti, perché non solo consumatori, si tratta di utenze pubbliche. Cioè la mentalità deve cambiare lì, perché non è un semplice consumatore, è un utente. Utente che di un servizio pubblico essenziale. Che poi pagano, questa vicino delle cose, da quanto la abbiamo. Che poi paga, e paga, come diceva prima Macri. La materia prima paga soprattutto anche altri, lo Stato, le regioni. Quindi, anche per questo, allora, siccome c'è un introito che viene anche allo Stato e agli altri, bisogna che ci sia un sistema di controllo più penetrante. Poi i privati, in tutta la storia, facciano quello che credono. Se io ho una catena di alberghi e faccio le telefonate dalla Bulgaria o dalla Cina, è una scelta mia, faccio quello che ritengo più opportuno. Ma se invece svolgo, e anche lì comunque svolgo un servizio rilevante, ma in questi gas, luce, bisogna riuscire acqua soprattutto, perché anche la gestione del servizio idrico in questo momento crea grandissimi problemi. Cioè, io a volte sento parlare Macri, no, perché ha una conoscenza profonda del territorio e conosce questi problemi, viene dalla vituperata politica, e quindi probabilmente proprio per questo la vituperata politica gli ha dato anche il senso delle cose e dei territori. Ma io sento a volte delle persone parlare in televisione, scrivere sui giornali, ma hanno mai visto una bolletta? Sono mai stati fra la gente che trova difficoltà tutti i giorni? Hanno mai visto i signori anziani che trovano difficoltà con le loro pensioni a far fronte a questi pagamenti? Chi viene dalla politica lo sa questo, perché ovviamente ci sono i miei forse che non lo vengono. No, io sento persone parlare di cose che non sanno nemmeno di cosa... Ma non l'amministrazione, cioè il piccolo lavoro sul territorio del piccolo consigliere comunale, che parla con le persone e sa quello che avviene, cioè sta fra la gente, capito? Non chi sta al Parlamento, ma chi sta al Comune per forza di cose che queste cose le conosce. Per tornare alla questione di carattere più generale, l'azienda del Dottor Macri è un'azienda che è attenta a questo tipo di problematiche, però adesso si sottopone alla contendibilità della borsa e quindi di fronte al problema della concorrenza la risposta l'ha già data, nel senso che andando in borsa accetta l'agone della concorrenza. Nel suo tempo è in grado di fermare una violazione della libertà individuale e soprattutto di forme di precarizzazione che non sono... Una battuta su questo, Presidente. Che cosa vuol dire la quotazione in borsa per estra? Vuol dire diversificare le fonti di finanziamento. L'abbiamo già fatto con le emissioni di ben tre bond, quindi siamo di fatto già quotati. L'ultimo nel 2016 per 80 milioni sulla piazza di Dublino. Sta una bella palestra che ha incontrato al favore del mercato e che ci prepara in maniera positiva alla borsa. La borsa perché? Perché abbiamo un mercato che sta variando, sia per l'ulteriore impulso liberalizzante sul mercato del gas, con il superamento della parte a maggior tutela e con le gare sulla distribuzione del gas. Collegare, sì. Significherà tantissime risorse da impiegare. Pensate che oggi sono 234 gli operatori di ex origine pubblica nel gas, con il DDL concorrenza e le gare della distribuzione diventeranno una cinquantina. Se estra vuole rimanere tra le prime dieci, con il bilancio di quest'anno siamo la quinta compagnia, se elimini le big three Enel e Edison, se vogliamo rimanere tra le prime dieci, dobbiamo necessariamente investire in questa fase nella quale ci sarà una sorta di sommovimento importante nel mercato proprio per le gare del gas. E investire significano centinaia di milioni di euro. La borsa ci apre al mercato, ci mette a ripare dal decreto Madia, che ha messo un po' di confusione e di pericoli sulle aziende di origine pubblica, come la nostra. Ci consente di acquisire uno status adeguato per entrare nel club delle grandi aziende e consolidarci a livello nazionale. Va bene, allora dobbiamo tornare da dove abbiamo iniziato e do il buongiorno ad Eva Desiderio. Buongiorno Eva. Ciao, buongiorno a tutti. Ben trovata. Allora, qualcosa ci avevi già previsto, un Obama con l'epolo nel senese e in effetti ieri sulla bicicletta l'avevamo visto. Insomma, che Obama hai visto tu, in gran forma, come da aspettative, insomma? Sempre più figo, se mi è consentita l'espressione. Certo. Lui è veramente un uomo molto affascinante, direi perfetto, perché... C'era lì. ...quegli abbinamenti così chiari, sui prati verdi, cioè, sembra una cartolina. E il Presidente Macri mi chiedeva se tu eri lì. Si è visto. No, no, io non ero lì perché sto partendo per New York. Però, insomma, le immagini le abbiamo viste, anche al nostro notiziario, e ora le rivedremo passare. Sì, anche i video di lui di bicicletta fra l'erba. Senti, abbiamo visto anche in formato, diciamo, golfista, classico americano, no? Quando vediamo un golfista pensiamo probabilmente a un cittadino americano, e lui forse ha rispecchiato anche quello, uno stile molto Tiger Woods. Certo, certo. L'unica caduta, secondo me, questa cena stellare, cioè, se gli facevano una bella pappa col pomodoro della fattorezza, forse era più caratteristico che invece sempre tutte queste cose stellate che non se ne può più. Quella di buttura, immagino, ti fesca. Sì, griffare sempre tutto. Se è arrivato fino a Montalcino, mangiati una fetta di pan con l'olio, hai capito? E due fave con cosa. Ecco, no il tortellino dolce, non se ne può più, con tutta st'invadenza di questi che sono diventati oramai i nuovi amici e l'angelo, se ne parla in un modo esagerato, secondo me. Applauso dal nostro studio su queste due ultime affermazioni. Però anche loro, è giusto che facciano vedere la ristorazione. Meglio una panzanella, e su questo insomma siamo d'accordo. Però anche loro bisognerà gli spazi. Attenzione, però, attenzione perché Michelle Obama si è concesso il gelato al cioccolato a Montalcino. Brava, lei sì, peccato che ci avesse quella pessima camicetta rosa che non so dove l'abbia trovata, con una manica sola, una manica sbuffa, una spalla scoperta, quei sandaloni bianchi, lei deve avere il 43 di piede. E tu non aveva giro la moglie di Renzi? Insomma, è un po' un po' un po' troppo, ecco, se si fosse vestita in modo un pochino più sportivo sarebbe stato meglio. Diciamo, Barack Obama promosso, Michelle Obama per lo stile un po' meno in queste vacanze toscane. Un po' meno, molto meno. Almeno per quell'unica foto che si è vista, poi, poveraccia, avrà portato senz'altro. No, poveraccia, no, perché... Un guardaroba stellare in cui la foto era piuttosto... Ce la potremmo trovare. Facciamo finire un attimo Eva e poi io metti i commenti qui si molti prima perché la cosa è come sempre interessante. Prego Eva. No, dicevo, si poteva mettere qualcosa di più consono anche alla campagna toscana. Quella era una camicetta forse buona per Miami, non lo so, ma non certo per Montalcino, ecco. Ma deve forse prendere le misure anche a poste americana. È americana, dice il professor Dettole. Chi voleva aggiungere qualcosa? No, volevo dire che nella pura tradizione americana non è detto che Michelle non entri in politica e sia una concorretta per le prossime elezioni al presidente degli Stati Uniti. Beh, il carisma ce l'ha veramente. Ce l'ha, ce l'ha, c'ha la cultura di base notevole perché... Me lo auguro, il caso Merkel insegna che le donne hanno molte chance. Non vi è dubbio, non vi è dubbio. Eh, ve lo vedremo. D'altronde penso che non passerà molto affinché possiamo vedere all'interno del Partito Democratico che dopo la vittoria di Donald Trump sicuramente dovrà cercare un nuovo leader visto che Hillary Clinton ha esaurito la sua spinta avendo perso le primarie otto anni fa contro Obama e poi la corsa invece principale contro Donald Trump. Sì, è normale che la moglie che possa poi svolgere una testa. Se in Italia si pensa se un politico la moglie entra... Ah, ecco, è la moglie di quello! Cioè, pensiamo già... Doveva ancora battere molti da bui. È una mentalità normale che... Può tornare anche Obama, eh? Dopo un mandato. Può tornare anche Obama. Dopo un mandato. Cioè, tecnicamente può farlo. Speriamo di no perché... Va bene. Beh, lo stile ce l'ha. Sì, lo stile, la bellezza, poi... Per il resto... No, politica estera è stato deludente, secondo me. Indubbiamente. Su quello penso che siamo d'accordo. A proposito, Eva, c'è stato anche un altro grande evento che era molto atteso ed era il matrimonio di una Middleton. Non era Kate ma era Pippa, la sorella quella che insomma durante il matrimonio reale aveva destato tante attenzioni. Non in senso spreggevole, è proprio il nome. È il nome, sì. Filippa. Detto così, Pippa potrebbe sembrare Filippa. Però è meglio noto come Pippa. Volevo sapere cosa ne pensa Eva insomma di questo matrimonio. Ma è stata una cosa molto bella quello che abbiamo visto fatto in campagna con questi trionfi di rose antiche inglesi che senz'altro sono da replicare anche alle nostre cerimonie. L'abito molto bello, molto castigato, una piccola scollatura a cuore e basta. Un abito da bambola, un abito da fiaba fatto da uno stilista inglese che si chiama Giles Deacon quindi sono rimasti in una tradizione patriottica e bello lo sposo impeccabile e molto bella la sorella Kate con quell'abito rosa petalo lunghet largo, svasato, comodo proprio perché occupandosi anche dei suoi due bambini non poteva come dire suscitare qualche difficoltà con spacchi o lunghezze quindi quel cappellino che porta sempre in testa e che fa il cappellaio matto il geniale Stivus Monta qui lo vediamo sulla destra ma soprattutto Federer ci dice qualcosa di Federer e della moglie Federer è come Obama la moglie è un po' peggio ma Federer questi matrimoni sono un problema perché ha figlie femmine perché poi li vedono e pensano che si possa e vorrebbero il matrimonio del secolo non so chi ti vuole io ho due quindi già è bene preparato questi vestiti le nostre grandi sartorie e anche i nostri grandi assigiani li sanno fare e li sanno fare anche meglio degli inglesi non c'è dubbio è bene sognare Eva ci consente sempre di farlo grazie Eva alla prossima a te un saluto un saluto grazie ciao ciao allora come di consueto ci concediamo la pagina sportiva in chiusura davvero di rassegna stampa perché insomma la Fiorentina è a fine corsa lo abbiamo letto su tutti i giornali fine corsa fine corsa fine corsa per quest'anno si ricomincia e ora si ricomincia è finita la stagione però dice la Nazione ma anche una giornata alla fine ora è già iniziato il tormentone Bernardeschi perché poi insomma le vicende calcistiche guardano sempre oltre questo è insomma un lato positivo si volta a pagina e si comincia da capo ma si teme per questo ragazzo di Carrara che è stato uno dei pezzi pregiati del mercato della Fiorentina del vivaio frutto del vivaio ma adesso potrebbe volare altrove vedete un po' dappertutto si celebra la vittoria della Juventus questo è il QS l'inserto sportivo della Nazione come te nessuno ovviamente per i sei scudetti di fila ancora nella storia del campionato italiano non era mai successo e poi Europa addio e ora il futuro di Bernardeschi vi faccio vedere anche il terreno sport del lunedì come te nessuno max con il sei ovviamente il gioco è con l'allenatore livornese della Juventus Massimiliano Allegri prego basta perché dopo il dolore anche di questo sesto scudetto perché della Juventus basta non li guardiamo perché dolore notizie interessanti che ne pensa Giorgio Micheletti in collegamento con noi Giorgio buongiorno Gaetano buongiorno a tutti gli ospiti sicuramente il dovere giornalistico ci impone di sottolineare innanzitutto scusate la voce ma lavorare di notte è sempre complicato il dovere giornalistico ci impone di sottolineare questa entrata nella leggenda della Juventus perché sicuramente in Italia non c'erano mai state squadre che avevano vinto sei scudetti consecutivi però è una notizia annunciata non è una notizia nuova è una notizia ormai che aspettava soltanto la codifica dell'aritmetica e del risultato così come è arrivata la notizia sicuramente più impattante e più brutta anche se anche questa annunciata dell'esclusione ufficiale della Fiorentina dall'Europa il 3 a 0 del Milanieri sul Bologna ha chiuso le porte dell'Europa alla Fiorentina se mi permetti Gaetano però oggi in chiave Fiorentina io metterei di più l'accento e l'attenzione sulle parole di Diego della Valle nell'intervista al Corriere della Sera Economia dove ha lanciato secondo me una frase che sarà destinata a mettere in allarme tutto il mondo viola Diego della Valle ha detto da quando abbiamo comprato la Fiorentina Andrea ha fatto miracoli economici ora è arrivato il momento di contarci e di vedere se questa situazione riferendosi alle polemiche e alle contestazioni dei tifosi è opera di pochi oppure no e di tirare le opportune conclusioni dopo quello che aveva detto Andrea della Valle dopo Sassuolo questo rinforzo di concetto mi lascia intendere che all'interno della famiglia della Valle l'idea di liberarsi della Fiorentina sta diventando sempre più concreta c'è qualcuno che forse lo vedrebbe anche di buon occhio tra i tifosi però si piomba nell'incertezza immagino se così fosse soprattutto innanzitutto ribadisco sono interpretazioni che noi diamo alle parole virgolettate ufficialmente rilasciate non c'è nessuna presa di posizione né comunicato ufficiale dal punto di vista della società sicuramente credo che la tifoseria Guelfa e Ghibellina della Fiorentina sia costantemente divisa tra vorrei che andassero ma non so chi arriva e vorrei che andassero chi se ne frega chi arriva non lo so è una situazione complicata e anche le uscite della scorsa settimana del sindaco Nardella in merito alle tranquillità relative al lavoro per il nuovo stadio credo che siano un tentativo di rabbonire di tranquillizzare le acque in questo momento la Fiorentina credo che in questo momento avrebbe bisogno di tutto tranne che di un cambio di proprietà e vedete come la nazione parli di rifondazione comincia la rifondazione staremo a vedere mentre c'è ancora un verdetto in bilico almeno uno ed è davvero davvero in bilico è quello che riguarda l'Empoli ancora una sconfitta dice Corriere Fiorentino il Castellani fischia salvezza a Palermo punto interrogativo il Crotone è sempre lì nonostante sia stato abbattuto dalla Juventus una vittima sacrificale per lo scudetto però l'Empoli visto ieri era davvero poca cosa mi sembra di capire poca cosa tanta sfortuna poca determinazione poca grinta poca rabbia poca cattiveria l'Empoli domenica a Palermo ha solo il risultato di vincere perché arrivasse a per i punti con il Crotone sono messi meglio i calabresi per aver perso 2-1 al Castellani ma vinto 4-1 all'uscida per cui per gli uomini di Martuscello sarà necessario trovare davvero la partita della vita è vero che il Palermo è retrocesso è vero che le male lingue dicono che il Palermo ha tutto l'interesse a essere accompagnato dal Crotone in Serie B perché scendendo il Crotone e il Pescara il Palermo prenderebbe la fetta maggiore del paracadute per le retrocessioni mentre invece se ci fosse l'Empoli che vanta una permanenza in Serie A da più anni di tutte e due le altre squadre i soldi nelle casse della ex Iena sarebbero meno però sono le dietrologie che all'ultima giornata di campionato nascono come i funghi dopo un temporale fatto sta comunque che l'Empoli deve meritare sul campo di restare in Serie A se non lo facesse butterebbe via una stagione fantasmagorica dal punto di vista dell'occasione tremenda dal punto di vista della dimostrazione e forse penalizzante per la società che ha un pochino troppo presto creduto di essere già salva vedendo la pochezza delle altre il Crotone ha dimostrato che se avesse giocato così fin dall'inizio probabilmente c'era un'altra squadra in terz'ultima posizione e non loro eh sì indubbiamente staremo a vedere d'altronde l'ultima giornata di campionato l'ultimo verdetto da assegnare è proprio questo in bocca al lupo Giorgio per la trasmissione non so come tu possa farla con questa voce ma immagino ti rimetterai in qualche modo faremo anche perché l'erba cattiva non muore mai grazie Giorgio grazie a te grazie davvero come sempre a Giorgio Micheletti e non so quanti di voi hanno festeggiato mi sembra di avere pochi per la vittoria della Juventus per niente però una questione sull'intervento della Valle secondo me è interessante un mio collega dell'università americana un grande professore di manager mi disse io non so come voi siate riusciti a non far funzionare in termini economici un business come quello del calcio di cui la domanda la passione la voglia di partecipazione è così immensa noi negli Stati Uniti con un giocato del genere ci saremmo tutti quanti arricchiti il meccanismo di funzionamento del sistema calcio è completamente sballato cioè non si può investire nel calcio se non buttando via i soldi questo questo almeno in Italia perché all'estero non mi sembra così è una cosa per cui non si riesce a e quindi capisco che Diego della Valle i soldi ce li ha messi e quindi non ritiene di avere motivo o forse ha dei dubbi di un motivo di continuazione quello che i fiorentini imputano a della Valle secondo me credo non è tanto quello di non avere messo un ammontare di soldi paragonabile a quello dei cinesi eccetera ma di aver commesso degli errori macroscopici negli ultimi anni nella campagna acquisti nella gestione della società per esempio questa stagione era finita con la partita con il Borussia era finita chi è andato allo stadio a vedere quella partita ha avuto una sensazione di distruzione proprio concettuale di un'azienda che funziona a quel momento era finita la stagione andava il taglio fatto lì andare in avanti da lì già pensare alla ricostruzione ma è possibile considerare una partita come quella un fatto episodico è una partita che ha veramente indicato anche se secondo me allora la rossa della Fiorentina non era proprio così scarsa rispetto a quelle che poi sono state le altre squadre davanti quindi secondo me la squadra poteva in questi anni è stata sempre a livelli che non era facile nemmeno mantenere in un campionato difficilissimo con se pensiamo al monte in gaggi e alla potenza economica di alcune squadre in Italia tra la Juventus l'Inter e altre insomma eppure è riuscita è rimasta lì è rimasta lì quest'anno è stato un po' particolare ma sono venuti fuori anche giocatori come Bernardeschi Chiesa insomma questa è una squadra che ha dei valori manca secondo me quello che meriterebbe Firenze la Toscana anche per il solo nome di Firenze nel mondo uno stadio adeguato a quello che è lì è il punto perché è una forza anche nel calcio ormai è questo che comincia a contare nell'immagine nel brand della società quindi questo deve diventare fondamentale e non si è riusciti ancora a farlo è lì il punto il punto totale per rilanciare veramente la Fiorentina può avere qualsiasi tipo di obiettivo nessun obiettivo può essere non perseguibile insomma come è andato la stagione non si o no Presidente? Assolutamente no continueremo a sostenere la Fiorentina io con sofferenza perché sarei anche un po' juventino allora l'hai festeggiato perché non ce lo dici? no perché ho visto come sono partito io va bene speriamo che l'italiano sono un convinto sponsor della Fiorentina va bene grazie anche per essere stati al gioco nell'ultima parte di trasmissione grazie al Presidente di Estra Francesco Magri alla prossima grazie al Professor Dettore grazie a voi e grazie al Professor Petretto grazie a tutti ci vediamo domani grazie per aver iniziato la settimana in nostra compagnia buon proseguimento grazie a tutti